. Dopo la rissa, i protagonisti hanno lasciato il caos dietro di loro guahogre, a questo punto, si può affermare che a Santa Maria Capuavetere c'è un problema serio che riguarda la sicurezza. . Più nel dettaglio, la cittadina casertana è interessata da un'incredibile ondata di violenza. Nelle ultime settimane, le vie del centro storico, ma anche quelle periferiche, sono lo scenario di rappresaglie tra bande rivali. . Definirle bande rivali è, forse, un buon modo per capire il fenomeno. Ripercorrendo la narrazione degli episodi. Qui e qui, si intuisce come siano gli stessi residenti a chiamarle in questo modo. . Santa Maria, dunque, è diventato un enorme ring sul quale si battono, gruppi di giovani che danno vita, ogni volta, a una mega rissa. . Spesso sono armati. La veemenza con la quale si manifesta la violenza è ciò che fa la differenza tra una mega rissa e un disastro annunciato. . Potrebbe scapparci il morto, ne sono certi i cittadini che, loro malgrado, si ritrovano spettatori di uno spettacolo che nessuno ha mai richiesto. . . Le telecamere hanno ripreso la mega rissa. Le immagini aiuteranno a capire, chi siano questi giovani, e perché sta accadendo ciò. . . .